Il ministero degli affari sociali libanese porta avanti vari progetti per migliorare le condizioni di vita della popolazione. A livello di sviluppo locale ne ha messo in campo ben 25 in tutto il Libano. I giovani sono un target particolarmente importante. Il ministero ha vari programmi che si rivolgono non solo ai giovani libanesi ma anche a quelli siriani. Si tratta di programmi di sensibilizzazione, orientamento oppure formazione in ambito professionale e per il miglioramento delle loro conoscenze. Non dimentichiamo che ogni anno in Libano si laureano 25.000 ragazzi, pertanto è necessario preoccuparsi del loro inserimento nel mondo lavorativo, ma il ministero guarda anche ai libanesi vulnerabili. Più in generale è importante la collaborazione con le ONG. Al momento il ministero lavora in parte inariato con circa 4 ONG italiane e con circa 600 ONG libanesi. Soprattutto nell'ambito della prevenzione e della protezione dell'infanzia e della donna e con un'attenzione particolare agli anziani. Per quanto riguarda gli sfollati dalla Siria, grazie al sopporto internazionale il governo libanese offre servizi attraverso i 230 centri di sviluppo sociale del ministero dislocati in tutto il territorio libanese per la salute, l'assistenza sociale, menze e molto altro. Come già detto incoraggiamo la formazione dei giovani siriani per permettergli di trovare un lavoro in Libano e speriamo in futuro nel loro paese. Con la cooperazione italiana il programma Mosaic è uno tra i più importanti. L'obiettivo principale è supportare i giovani per la promozione dei loro diritti e per la creazione di un ambiente favorevole al loro sviluppo anche attraverso piani di prevenzione e protezione. In questo quadro il progetto ha favorito la formazione di consigli municipali dei ragazzi in 5 municipalità del Libano. Ogni consiglio ha elaborato un piano d'azione per la creazione di spazi culturali, recreativi e associativi per i giovani della comunità. Un'altra componente Mosaic è la Helpline che consente agli esperti del ministero di raccogliere le denunce dei minori vulnerabili e fornire loro aiuto. Infine è stato costituito un centro nazionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza per migliorare la conoscenza del tema e da cui avviare progetti di sensibilizzazione all'interno della società. Un altro importante progetto di collaborazione con la cooperazione italiana è Donne Governance che punta a rafforzare la partecipazione della donna alla vita politica libanese e prevede anche l'offerta di opportunità lavorative. A questo si affianca un progetto per il miglioramento della qualità della vita in sei istituti di detenzione femminili. L'obiettivo è quello di assicurare generi di prima necessità e servizi anche per i bambini nati in carcere. Alle donne garantiamo un adeguato supporto psicologico e attività volte al loro reinserimento nella società. Infine la cooperazione italiana supporta gli sfollati siriani in Libano in particolare nell'ambito dell'educazione, della formazione professionale e dell'orientamento al lavoro.